Le corse del CSTP proseguiranno, almeno per ora, lo ha deciso questa mattina il CDA del Consorzio, dopo aver verificato che grazie alle anticipazioni di cassa deliberata ieri dalla provincia sarà possibile far fronte al rifornimento del carburante e ai costi, almeno nel breve periodo, evitando di lasciare a piedi pendolari ai studenti già da domani, come era stato deciso nei giorni scorsi. Il dietrofront di Palazzo Sant'Agostino sull'adeguamento chilometrico, prima negato, poi accordato, con una mail nel famoso CDA straordinario di lunedì d'Albis e quindi nuovamente cancellato, aveva posto il CSTP nella difficile situazione di operare in perdita, come denunciato dal rappresentante del comune di Salerno, Mariano Mucio, a pesare anche i problemi con il rifornimento del carburante, in particolare il gasolio. Proprio la prevista sospensione delle forniture da parte dell'azienda di Volla nei confronti del CSTP aveva contribuito a spingere i vertici aziendali a decidere per il blocco del servizio a partire da domani. Ieri, però, la giunta provinciale, riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato un'anticipazione di cassa di circa 3 milioni di euro, rimettendo tutto in moto. Non è di certo la soluzione al problema, ma comunque un'iniezione di liquidità indispensabile per proseguire le corse. Contemporaneamente, ha annunciato il presidente Sant'Occio questa mattina, saranno diffidati gli enti affinché adeguino il corrispettivo chilometrico e mettono appunto un piano di rientro dei propri debiti contratti con il consorzio.